Musica Noi lavoriamo per le gallerie commerciali e per i condomini, quindi anche grossi condomini, sull'aspetto della gestione tecnica. Siamo circa, abbiamo una sessantina di gallerie commerciali per Italia e anche qualcuno all'estero, e poi una decina di condomini anche qui distribuiti un attimo un po' in tutta Italia. Noi facciamo la gestione tecnica, quindi bene o male, almeno la mia parte, facciamo la gestione tecnica. Quindi bene o male io ho avuto un'esperienza, arrivo da un'esperienza come il signore, che è un'esperienza che io arrivo, ho fatto per 28 anni, gestione in produzione termoelettrica, nucleare e idroelettrica, quindi lavoriamo in mamma Enel, dopo 28 anni ho preferito, ho deciso di fare un altro salto e provare qualcosa di diverso. La combinazione Cogest stava crescendo perché era qualche anno che era sul mercato, e quindi io ho approcciato per la prima volta il problema di trasferire il concetto di gestione da un ambiente produttivo dove effettivamente era molto spinto, no era molto spinto, siamo arrivati con l'amico Tatò ad arrivare al SAP come sistema di gestione, con tutte le difficoltà da passare da un sistema di tipo aperto, costruito in ambito aziendale, ad un sistema bloccato come quello che arrivava dalla mamma Germania, perché poi da qui arrivano determinate cose. E io mi sono trovato, noi ci siamo trovati a costruire un'azienda con grosse difficoltà, perché gli interlocutori sono tanti, con tante teste diverse, perché bene o male noi arriviamo dove c'è il padrone, l'immobiliarista, ci può essere una società che ha acquistato il centro commerciale, quindi con un responsabile di asset, quindi un funzionario che si muove in maniera diversa, e quindi oppure come potrebbe essere Coop, come potrebbe essere Oshan, quindi con altre realtà. Di fatto quindi la difficoltà è stata sicuramente significativa. È chiaro che noi siamo partiti un pezzo alla volta e siamo sempre in process o in progress come si dice, perché le cose si stanno modificando a seconda di quelle che sono le necessità e le richieste del mercato. In quel momento, come si raccontava, c'era una fluidità di denaro significativa, quindi il problema del risparmio energetico, come sentivo, è un problema molto limitato, non era così importante. Abbiamo cominciato a ragionare in termini di standardizzazione, come si sentiva prima. Siamo a 13 anni, 14 anni fa. E devo dire che di fatto il primo aspetto fondamentale, perché prima c'erano dei contratti che erano un paio di paginette, quindi non c'era niente dal punto di vista civilistico, non c'erano altri aspetti, non c'era niente sull'aspetto della sicurezza, ad esempio. Non c'era niente sotto l'aspetto finanziario, fiduciario, non c'era niente sotto l'aspetto del capitolato tecnico, quindi altro aspetto molto importante. Che poi, come diceva giustamente il signore, io sono una taglia 56 forte, poi io trovo una taglia 54, un 48, quindi bene o male un centro commerciale è diverso non solo da posizione ma anche da tipologia di impianto, quindi anche da tipologia ma anche di chi gestisce questa tipologia di impianto. Quindi tutta la pianificazione e la standardizzazione doveva tener conto di questo aspetto. Quindi i nostri contratti sono sicuramente standard, ma poi vestono la taglia necessaria per la gestione di quel centro commerciale. Ed è fondamentale questo. Cogest ha deciso, e io ritengo che sia una strada fortemente importante, e questo va bene anche a me, direttamente anche a noi, di avere una società terza di gestione tecnica che si rapporta con una struttura centrale e si rapporta sul territorio. Come ci muoviamo? Noi ci muoviamo facendo dei sopralluoghi, almeno due volte all'anno, in ogni centro commerciale, con persone mie, nostre, che sono specializzate. Quindi mando l'elettrico, l'ingegnere elettrico, il periodo elettrico, se c'è un problema elettrico, un meccanico per il condizionamento e via via. Quindi abbiamo sicurezza, abbiamo anche delle persone. Quindi bene o male noi facciamo una riportistica, meno due volte all'anno, che va direttamente in sede centrale. Questa è una riportistica tecnica. Poi c'è una riportistica che viene fatta dal direttore sul territorio, col suo assistente, che è una riportistica trimestrale, che quindi va chiaramente all'interlocutore, dove raccoglie non solo questa parte qui, che è una parte importante, proprio per un discorso di pianificazione di costi, ma poi riporta anche tanti altri aspetti, dal marketing, eccetera, in modo che di fatto il consorzio e la proprietà abbiano una visione continua di quella che è l'evoluzione o di quelle che sono le problematiche in atto. Che poi queste problematiche siano risolte o vengano risolte, questo dipende dalla situazione del contingente.